E' stata scongiurata la seconda bufera bianca, così ci ha detto il meteo del comune, ma ora le temperature stanno riscendendo in picchiata. A dieci giorni dalla nevicata, ancora, guardate via 4 novembre, come ridotta. Cioè, c'è segato i rami dei pini di dieci giorni fa. Allora, sono stati segati perché di solito si dice che gli operai del comune non hanno voglia di fare una sega. Quindi loro cosa hanno detto? Noi seghiamo così. Però, siccome dimostrano di non aver voglia di fare una portata, ora andrebbero portati via. Anche perché, caro sindaco, noi siamo amici, ma la cosa che ti ho detto quando sei stato eletto, che prima di tutto io sarò sempre dalla parte dei cittadini. E i cittadini di questa cosa si sono rotte le palle di neve, naturalmente. E allora, anziché fare tanti proclami, anziché dare tante spiegazioni, ci sono i fatti. Se no, alla gente, gli fate dare ragione a quelli che fanno i fatti e basta. Vogliamo i fatti, i cittadini vogliono i fatti. Se no, caro sindaco, sarebbe come se tu dicessi a noi aretini, non ci sono problemi, è mancato il sale, c'è stata una grande bufera, ma la prossima volta il comune vi dà un consiglio. Mangiate le cipolle. Come perché? Perché almeno fanno bene alla circolazione. Suggansi, no?